Sono qui ad aver spiegato, sono venuto a raccontare un attimo l'esperienza che facciamo con le scuole che è un'esperienza didattica, di contenuti didattici per mettere avanti il tema della coscienza del rischio sismico e si basa su attività interdisciplinari di carattere storico, ma anche di laboratorio nel senso che noi vogliamo far capire il comportamento che hanno i fabbricati sotto azione sismica attraverso semplici esperimenti con delle tavolette vibranti che ci siamo costruiti in questa rete di scuole e che abbiamo resi disponibili sul territorio. Quindi è fondamentale approcciare l'argomento, lo possiamo fare tranquillamente dalle terze medie in su per parlare ai cittadini, poi se c'è un'esigenza di approfondimento anche tecnico siamo in grado di fare anche quello ma l'essenziale è che c'è questo minimo comune denominatore di cultura diffusa con cui si parla la cittadinanza. Grazie.